L'Avellino è tornato in campo in vista della sfida di domenica contro il Carpi. Mimo Toscano ha riportato i suoi sul sintetico del partenio Lombardi, sempre a porte chiuse, questa mattina alle 10.30. La squadra ha svolto lavoro atletico e partitella a ranghi misti a campo ridotto. Indisponibili Camarà, Jim City e Radunovic impegnate con le rispettive nazionali, oltre ai lungodeggenti Gavazzi e Molina. Terapie per William Gidai, mentre il portiere Gianluigi Frattali si è allenato regolarmente in gruppo. I problemi per Toscano però riguardano la difesa. C'è da capire infatti chi sarà il sostituto di Jim City al centro. L'alternativa potrebbe essere rappresentata dallo spostamento al centro di Gonzales, con Don Corp promosso titolare sulla fascia destra. A sinistra potrebbe rientrare Asma con Diallo, pronto a rappresentare l'eventuale sorpresa dell'ultima ora. Complicato anche capire chi prenderà il posto dello squalificato Angelo D'Angelo. Toscano potrebbe rilanciare nella mischia Omeunga come interno destro, oppure spostare l'Asic sul centro-destra e schierare Crecco a sinistra. In avanti si fa strada l'ipotesi Ardemagni-Castaldo, con Verde pronto a svariare lungo tutto il fronte della Trequarti. Grazie.